Faccio un video in difesa della famiglia tradizionale. Io sono un padre di famiglia tradizionale, ho una moglie tradizionale, assieme abbiamo procreato, abbiamo una figlia tradizionale. Ecco, io, padre di famiglia tradizionale, se vedo una coppia di omosessuali che si conoscono, che hanno la loro unione riconosciuta dalla legge, che si sposano, diciamo così, io, non mi sento minacciato. Io sinceramente non avverto un pericolo, non mi sento in rischio di qualcosa, non penso che sia minacciata la mia famiglia. E perché io sono uno ansioso, io quando vedo una cosa che è nuova, che non ho mai visto prima, è qui, e cos'è, è qui, e non sarà una minaccia, perché sono veramente ansioso. Però se si sposano d'omosessuali, io non riesco a capire quelli che dicono che bisogna impedire agli omosessuali di sposarsi, che le loro unioni siano riconosciute per difendere la famiglia tradizionale, perché è una minaccia alla famiglia tradizionale, questa cosa, ma qual è la minaccia, scusa? Non so, a meno che tu non pensi che se tu permetti agli omosessuali di unirsi con un'unione riconosciuta dalla legge, le famiglie si sfasciano, i mariti lasciano le mogli, le moglie lasciano i mariti per andarsi a unire omosessualmente in matrimonio. Ma allora erano già omosessuali, allora avevano già un'unione, forse. Non penso che uno lascia la moglie e si va a sposare con un uomo perché c'è la legge che lo consente. Qual è il pensiero che sta sotto? Non si capisce. O me lo spiegate meglio questo concetto qui? Perché detto così non si capisce, detto semplicemente difendiamo la famiglia tradizionale, non si capisce cosa volete dire, cos'è che pensate? Perché diciamo le cose come stanno, cos'è che viceversa è una minaccia per la mia famiglia? Cos'è che la mette a rischio la mia famiglia? Quello che ha messo a rischio e ha sfasciato tante famiglie, tante coppie che conoscevo? Cosa? Eh cosa? Che il marito a un certo punto perde la testa per un'altra donna, magari più giovane, piacente, lascia la moglie e i figli, un disastro. Oppure la moglie, la moglie si fa sedurre da un uomo ai tante prestante, magari abbiente, va via, lascia i figli, il marito, un disastro, cioè sono gli eterosessuali che mettono a rischio, che sono una minaccia per la mia famiglia, la famiglia tradizionale. E che genere di eterosessuali, che genere? Perché bisogna dire anche le cose come stanno, e qui panno al vino e a veno, anche a rischio di essere politicamente scorretti, che genere? Di eterosessuali. I single. I single, sì, perché qua, ma quando le persone sono accoppiate, sono sposate, soprattutto se il matrimonio è felice, bene o male, si neutralizzano fra di loro, si baciano fra di loro, si abbracciano fra di loro, fanno sesso fra di loro, si neutralizzano. ma sono i single le persone sole le vere mine vaganti in cerca di amore e di sesso ma soprattutto di amore quelle sono le minacce per la famiglia tradizionale quindi io direi pragmaticamente razionalmente smettiamo di preoccuparci come famiglie tradizionali delle coppie omosessuali perché le nostre famiglie non sono messe in pericolo dalle coppie omosessuali sono messe in pericolo dai single eterosessuali l'opposto il contrario e quindi direi difendiamo la famiglia tradizionale cosa facciamo? finanziamo delle agenzie matrimoniali vedete quelle agenzie matrimoniali che uno è single va là dice i suoi gusti, il suo profilo come vorrebbe la donna della sua vita le donne vanno lì lasciano i dati e questi figli li fanno incontrare esistevano? esistono ancora? devono esistere devono esistere e io le finanzio vi do i soldi vi do i soldi do l'otto per mille si può dare? l'otto per mille a un'agenzia matrimoniale difendiamo la famiglia tradizionale dal vero pericolo i singoli eterosessuali non assolutamente no mai assolutamente no per le coppie omosessuali sono i nostri amici sono i nostri alleati più stretti grazie a tutti grazie a tutti